giovedì 3 settembre luca 16 16 18 lettura del vangelo secondo luca in quel tempo il signore gesù disse la legge e i profeti fino a giovanni dall'ora in poi viene annunciato il regno di dio e ognuno si sforza di entrarvi è più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio buongiorno a tutti e ben ritrovati la liturgia di oggi ci propone di continuare la lettura del capitolo 16 del vangelo di luca e qui avete sentito troviamo una specie di parentesi che sembra interrompere il ritmo normale del discorso qui luca ha evidentemente voluto inserire questa strana raccolta di detti di gesù strana nel senso che non sembrano avere una continuità diretta con quanto luca sta narrando eppure questi versetti li troviamo proprio qui subito dopo la scena dei farisei che si prendono gioco di gesù per i suoi discorsi sulla vera ricchezza e subito prima della parabola del povero lazzaro che invece ascolteremo domani leggendo queste poche righe a me è venuto in praticamente così in modo quasi spontaneo il filo da arianna ve lo ricordate il filo che arianna dona a teseo per aiutarlo ad uscire dal labirinto del minotauro costruito da dedalo sull'isola di creta ecco questo strano filo ci parla di legge e di profeti fino a giovanni e la legge lo sappiamo nella bibbia è il dono che dio fa al suo popolo non per avere schiavi ma per custodire una relazione d'amore i profeti invece nella bibbia continuamente cercano di ricordare al popolo le radici d'amore di questa storia che dio ha voluto intessere con loro e spronano il popolo a fare in memoria per leggere il presente alla luce di questo amore e così orientare correttamente il futuro e poi quasi giusto a posto troviamo un riferimento all'adulterio che se restiamo nel senso di una storia d'amore allora potrebbe fare da eco a quel rapporto buono originario che dio aveva pensato per noi fin dal principio quel rapporto buono tra l'uomo e la donna pensato in origine insomma mettendo un po insieme tutti questi frammenti queste piccole intuizioni forse il filo d'arianna che ci permette di cogliere un po una sorta di strada comune che ci permette di leggere questi versetti apparentemente slegati tra di loro forse questo filo d'arianna è proprio il filo della storia della salvezza che dio ha voluto intessere con noi una storia che qui ora si manifesta pienamente in gesù cristo quindi in qualche modo questi versetti sono forse incastonati proprio qui in questo punto del vangelo come se fossero una sorta di segnale luminoso che ci dice stai attento perché questo gesù che i farisei stanno prendendo in giro come se fosse un pazzo ecco proprio questo gesù in verità è il compimento della storia della salvezza in lui si concentra tutto il desiderio di dio di incontrarci di farci uscire dal labirinto delle nostre meschinità e di scoprirci figli amati e quindi capaci a nostra volta di misericordia vera autentica cioè capaci di vivere insieme come fratelli a partire dalle piccole cose di ogni giorno forse l'adulterio più grande è il non saper vedere questo amore fedele che ci accosta in cristo e cammina con noi preghiamo e chiediamo a gesù di saper vedere di saper raccogliere e di voler raccogliere il filo di questa volontà d'amore che ci accompagna da sempre così da poter uscire dal labirinto delle nostre piccolezze piccolezze che non ci fanno guardare la realtà con gli occhi dell'amore e quindi non ci permettono di incontrare realmente dio e i fratelli invece entrambi sono lì all'uscita del labirinto pronti per l'incontro grazie a tutti buona giornata se volete ci rivediamo domani grazie a tutti